Si sarà contagioso, la roba provocherà un graffito, una scoluzione in più, un'altra che si sarà rotta e l'integrato si diffonderà. Invece se tu l'aggiusti subito e dai un segnale forte di attenzione al territorio, probabilmente questo degrato non avrà modo di viralizzarsi. Come si chiama questa tecnica? Broken window. È la broken window. Allora, il punto qual è? Torniamo al tema del robot 2.0, alla fine si rigira questo. E adesso giriamo a sinistra.